Una buona serata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna fino alle 19 è chiuso per lavori il tratto compreso tra Aglio e Roncobilaccio. Ancora in direzione Bologna per traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e il divio per la variante di Vallico. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Pisa, code tra Firenze Ovest e Prato Est. Ci spostiamo sulla FIPILI dove per lavori ci sono rallentamenti in entrambe le direzioni tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest-Ponsacco. Per viabilità esterna che non riceve in direzione Firenze, rallentamenti tra Scandici e Firenze Scandici. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Prunita. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!